Gianfranco Fortunati, Amici dell'Astomia, di che cosa vi occupate? Amici dell'Astomia è un'associazione di recente costituzione che va ad affiancare un'altra associazione che è già operativa da quasi un anno che è l'Astomaps, ma mentre l'Astomaps si occupa sostanzialmente dell'assistenza medico-infermieristica, quindi un'attività di tipo sanitario a favore chiaramente delle persone stomizzate. Noi invece come amici dell'Astomia andiamo a completare l'offerta dei servizi, nel senso che ad esempio forniamo un supporto psicologico ovviamente con professionisti del settore per cercare ovviamente di alleviare quelli che sono i disagi emotivi, soprattutto di chi inizia le prime fasi in cui le persone hanno questo tipo di problema. Cerchiamo di dare un supporto pratico nel senso della fornitura del materiale sanitario, ma anche l'accompagnamento ad esempio delle persone che non sono automunite o comunque sono impossibilitate a raggiungere gli ambulatori dell'Astomaps che si trovano in Piazza della Libertà presso gli ambulatori ASL, eventi ad esempio di socializzazione per ripeto alleviare anche questo disagio emotivo, informazione sia ai pazienti che ad esempio i familiari che ovviamente devono affrontare situazioni nuove e di disagio e quindi devono essere anche informati e preparati su quelle che sono ovviamente le problematiche e le dinamiche di questo tipo di situazioni. Dottor Maffei, chi è oggi il paziente stomizzato? Il paziente stomizzato è un paziente che è stato sottoposto a intervento chirurgico e ha subito una resezione intestinale o del piccolo intestino, del grosso intestino, del colon e quindi ha un abboccamento naturale intestinale alla cute e quindi questa è la sua possibilità per andare di corpo di là, è chiaro è stato fatto un intervento così salva vita molto molto spesso per tumore o per perforazioni, per peritoniti e quindi la sua opportunità per continuare a vivere è così, subire questo tipo di intervento e andare avanti così. Oggi come va assistito? Oggi il primo punto della sua assistenza è garantirgli una qualità di vita migliore, il migliore possibile, quindi sia da un punto di vista di affidarsi a persone qualificate che lo aiutino a gestire al meglio la sua nuova condizione anatomica, quindi sia da un punto di vista medico che igienico-sanitario. Oggi quanti sono i pazienti stomizzati in provincia di Foggia? Sono circa mille di cui 300 a Foggia. Noi dobbiamo ringraziare e ringraziamo Astomaps e amici dell'Astomia perché grazie a loro, grazie a questo connubio tra la sanità pubblica e l'associazionismo e il volontariato, riusciamo ad offrire un servizio alle persone, nel caso di specie un servizio agli stomizzati di Foggia e non solo di Foggia ma di tutta la provincia. Io voglio ringraziare coloro i quali attraversando un momento di sofferenza hanno trasformato questo momento in un'organizzazione che aiuta a migliorare la qualità della vita di chi vive dinamiche di sofferenza e che poi ha bisogno di assistenza e quindi questo connubio tra pubblico e associazionismo dà un servizio concreto di assistenza agli stomizzati.